Minardino di Lecce Si colloca nel Salento Meridionale, a pochi chilometri a sud di Otranto. Il territorio rientra nell'ambito dell'unione dei comuni della costa orientale, insieme a Ortelle, Castro e Santa Cesarea Terna. Tra le sue terre si conservano numerose testimonianze megalitiche, retaggio monumentale della presenza stabile dell'uomo già dall'epoca dei metalli. Suggestiva è la campagna che si estende intorno all'abitato, diramandosi in fitte trame di olivi verso le frazioni di specchia gallone e cocumola. Le distese verdi, caratterizzate da rigogliosi e antichi monumenti arborei, sono l'evidente sintesi dell'economia del paese, fortemente legata alla vocazione agricola, in particolare nella produzione dell'olio, del vino e dei prodotti cerealicoli. L'architettura della civiltà rurale si articola nelle campagne minervinesi e si esprime di fatto nei suggestivi muretti a secco, realizzati nel corso dei secoli dalle pazienti mani dei contadini del luogo. In questo incanto è facile imbattersi nelle pagliare, costruzioni tipiche salentine, edificate per custodire gli attrezzi agricoli o come sistema abitativo durante i mesi estivi. Le meraviglie e le curiosità continuano anche sulla costa orientale, dove si staglia la torre costiera Minervino, collocata sulla provinciale Otranto-Santa Cesaria Terme. La torre fu costruita nel Cinquecento a spese dall'antica Universitas di Minervino, durante il regno di Carlo V d'Asburgo, oggi edificio meta di numerosi turisti e curiosi a caccia di spettacolari foto paesaggistiche. Minervino di Lecce è un paese da scoprire ma anche da gustare, infatti la tradizione agricola si coniuga perfettamente con l'innovazione enologica e culinaria, grazie in particolare alle eccellenti cantine vitivinicole che animano il territorio, riconosciute e apprezzate per il loro pregio da importanti estimatori italiani e stranieri. La spontaneità dei luoghi e il talento per l'accoglienza rendono Minervino un borgo incantevole, impreziosito da rilevanti monumenti storico-artistici e sicuramente dalla gentilezza degli abitanti e dalla professionalità degli operatori turistici. Grazie a tutti. L'identità storica di Minervino di Lecce riecheggia nella bellezza del borgo antico, abbellito da eleganti architetture realizzate attraverso l'uso della caratteristica pietra locale. La chiesa parrocchiale, dedicata a San Michele Arcangelo, è in grado di unire la semplicità della tradizione edilizia di terra d'Otranto alla ineccepibile destrezza dei maestri scalpellini salentini. Il rosone domina la facciata della chiesa, facendo mostra dei rigogliosi intagli che adornano con opulenza l'intera area perimetrale, in una suggestiva circonferenza di elementi a foglia d'accanto e motivi vegetali. Altre scolpiture sono poste sull'architrave dell'entrata laterale, posizionata sul versante di piazza Umberto I. In cima troneggia la statua di San Michele, titolare della chiesa e protettore della città. Monumentale è il progetto edilizio dell'Abside, visibile dall'esterno nelle sue forme possenti e ricche di riferimenti al gusto antiquario. L'interno dell'edificio si articola in una navata unica e sui lati fanno sfoggio gli altari in pietra, adornati con cura dalla devozione e dalla pietà spopolare. In piazza 4 Novembre si incontra la chiesa di Sant'Antonio da Padova, fanno mostra all'esterno la sobrietà e la semplicità edilizia, linearità interrotta dagli ordini dell'arcata del complesso conventuale. Un tempo infatti la chiesa era annessa al convento dei padri minori riformati, nei cui locali, restaurati di recente, sono conservate numerose opere di particolare freggio artistico. Passeggiando nel borgo antico di Minervino si incontra piacevolmente la storia del luogo. Risalta infatti il solenne palazzo ducale dei Venturi, non a caso chiamato dagli abitanti Castello Nuovo, in relazione alla sua funzionalità difensiva e di rappresentanza del potere feudale. L'opulenza della famiglia Venturi traspare anche nell'antica casa palazzata sita in via Castello. Dalle forme austere e lineari spicca il portale bugnato, dove campeggia in cima la storica arma araldica del Casato. E' facile smarrirsi in queste bellezze monumentali, dove si fa viva l'attenzione alla cura e alla valorizzazione del patrimonio culturale, virtù che rendono il paesaggio urbano di Minervino ricco di suggestive emozioni e di incantevoli scenari d'arte. Grazie per la visione! La frazione di Cocumola rientra nel territorio comunale di Minervino di Lecce. Il piccolo centro abitato si dispone a ventaglio intorno alla piazza del paese, dedicata al santo patrono Nicola di Mira, festeggiato dalla popolazione la prima settimana di agosto. Qui si affacciano gli antichi edifici signorili e tra tutti risalta Palazzo Pasca, con la sua fisionomia articolata di antica residenza nobiliare. La facciata è dominata dal portale riccamente elaborato, mentre fa da coronamento alla struttura un elegante balaustra, felice risultato di modifiche risalenti alla fine del Settecento. Anticamente l'edificio doveva possedere un'organizzazione strutturale di tipo difensivo, come ricordano i resti di alcuni elementi tardo-cinquecenteschi di natura architettonica militaresca. In questi scorci tipici del Salento meridionale, sembrano rivivere i versi dell'illustre poeta Vittorio Bodini, raccoltine La Luna dei Borboni, così citati. Un paese che si chiama Cucumola, è come avere le mani sporche di farina e un portoncino verde color limone. A pochi metri dalla piazza, si stagliano i sobri lineamenti della parrocchiale, risultato delle sensibili modifiche effettuate negli ultimi anni dell'Ottocento. Proseguendo verso la periferia, ci si imbatte nella piccola chiesa dedicata alla Vergine Assunta, conosciuta qui a Cucumola come la Madonna dell'Uragano. La cappella è così chiamata in ricordo del violento nubifraggio scatenatosi nella zona orientale del Salento nel 1832, tempesta che secondo la tradizione devozionale fu mitigata grazie all'intervento salvifico della Vergine. Cucumola è conosciuta ai molti anche per l'ottima cucina tradizionale, proposta in una squisita cornice familiare nei vari locali presenti nel centro. Una giusta occasione per visitare il paese, in grado di unire la bellezza paesaggistica del Salento spontaneo alla qualità dei piatti tipici di terra d'Otranto. Grazie a tutti. La bellezza del Salento autentico può essere colta nel piccolo borgo di Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Il paese per diversi secoli fu legato alle vicende del casato dei Principi Gallone di Tricase, tra le famiglie nobiliari più ricche del Salento meridionale. Il cinquecentesco palazzo baronale, posizionato lungo il perimetro della piazza del paese, conserva ancora lo stemma araldico dei Gallone, che campeggia al centro della raffinata balaustra laterale. La facciata principale del palazzo riporta invece le insegne della famiglia San Giovanni, casato appartenente alla nobiltà alessanese, feudataria di Specchia in successione ai Principi di Tricase. Nella fisionomia dell'edificio si possono riconoscere i vari rifacimenti architettonici elaborati nel corso dei secoli, allo scopo di addolcire e nobilitare un'originaria struttura austera e militaresca. Altri riferimenti alla grammatica araldica del Gallo si possono riscontrare nelle scolpiture del portale della chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio, protettore del paese. Suggestiva è l'iconografia seicentesca riportata nella decorazione lapidea ispirata al tema della Passio Cristi e al Memento Mori, come la croce, la colonna della fustigazione e il Teschio. L'interno si presenta con un'unica navata dominata dal pulpito monumentale interamente realizzato in pietra leccese. L'altare centrale rappresenta un'unicità stilistica nel territorio salentino grazie ai suoi complessi intarsi policroni. Le bellezze pittoriche di Specchia Gallone si concentrano nei cicli parietali conservati nella chiesa di Sant'Anna, un gioiello artistico di alto valore culturale. L'edificio si staglia lungo la strada che conduce a Poggiardo, in posizione periferica rispetto al centro dell'abitato e presenta esternamente i segni evidenti di importanti modifiche strutturali avvenute nel corso del tempo. All'interno si ammira la raffinatezza pittorica del Cinquecento Salentino, che qui a Sant'Anna si manifesta in rappresentazioni di elevata qualità e maestria. Gli affreschi suddivisi in scena richiamano le vicende del Vangelo e dell'Antico Testamento, raffigurate in maniera chiara e semplice sullo stile della Biblia paupera. Suggestiva è la rappresentazione del giudizio universale, dipinta lungo la controfacciata della chiesa. L'antica e nobile storia dell'economia agricola di Specchia Gallone riecheggia lungo la strada che conduce a Minervino. Le grandi masserie cinquecentesche si impongono sullo sguardo dei visitatori con le loro facciate monumentali, oggi ristrutturate e riconsegnate al presente. Queste strutture nascondono spesso dei gioielli nel sottosuolo, come ad esempio gli antichi granai di sorprendente dimensione. E' il passato dell'identità salentina che ritorna con la sua bellezza e le sue preziose testimonianze culturali, che a Specchia Gallone rivivono con spontaneità nella cura dei luoghi e nell'accoglienza greca degli abitanti del borgo. Il territorio di Mierdino di Lecce custodisce un importante patrimonio afferente alla civiltà megalitica salentina. Valido esempio è il dolmen Liscusi, posizionato lungo la strada provinciale che collega il paese a Oggiano la Chiesa. Individuato da Mario Antonio Micalella, nel lontano 1867, Liscusi si attesta tra i dolmen più importanti della penisola pugliese e tra i primi monumenti megalitici ad essere studiati in Italia durante i censimenti avvenuti a cavallo tra l'800 e il 900. La lastra superiore presenta un foro del diametro di 20 cm, apertura probabilmente connessa ad un'antica funzione cultuale o astronomica. Recentemente l'amministrazione comunale di Mierdino ha istituito il parco culturale Dolben Liscusi, allo scopo di migliorare le attività di tutela e valorizzazione del monumento, attraverso la promozione di interessanti itinerari turistici avviati in seno al sacco Serresalentino. Caratterizza il patrimonio megalitico minervinese il Menhir Monticelli, posizionato a pochi chilometri dall'abitato dell'omonima località. Individuato nel 1951 da Giuseppe Palumbo, il monolite doveva avere in passato dimensioni maggiori rispetto alla sua altezza che oggi si attesta a 2 metri e 25 cm. A Cocumola si può ammirare in via Savoia il Menhir Croce, un tempo posizionato in aperta campagna, come ricorda nel suo censimento il geologo leccese Cosimo De Giorgi. Il monumento lapideo raggiunge i 3 metri e 20 cm di altezza, mentre la base registra una sezione ampia 63 cm. Le preziose testimonianze megalitiche arricchiscono di mistero e fascino il territorio minervinese, patrimonio che rievoca l'ancestrale vocazione spirituale del Salento e il forte legame con la natura e la terra. Grazie a tutti!